Valar Morghulis, qui Egdala Cittadella, e oggi andremo a parlare di Paisel, il gran maestro che ha servito nel concilio ristretto di approdo del re per gli ultimi 40 anni. All'inizio del regno di Retomen I Baratun, il gran maestro Paisel ha più di 80 anni e è il più anziano membro del concilio ristretto. Egli possiede una lunga barba bianca e pochi capelli, al collo porta una dozzina di catene da maestro intrecciate e spesso indossa abiti adornati d'oro e pelliccia di armellino al posto delle tipiche vesti da maestro. Paisel studia la Cittadella forzando la sua catena da maestro durante il regno di Mekar I Targaryen, in seguito alla morte del quale viene eletto gran maestro nel concilio di re Aegon V. Successivamente, quando Eri II sa dal trono, Paisel, per ragioni non del tutto chiare, si schiera segretamente con Tywin Lannister, il nuovo primo cavaliere del re, e da quel momento continuerà a servire i Lannister a dispetto dei voti presi, che impongono ai maestri di servire i sette regni. Quando poi Tywin si dimette e lascia la fortezza rossa, il gran maestro cerca di contenere i danni provocati dalla follia crescente del re, e rendendosi conto che la divisione e il risentimento tra Eri e il figlio Rhaegar avrebbero potuto portare ad una guerra civile simile alla danza dei draghi, prova ad avvertire anche la Cittadella di tale pericolo, ma inutilmente. Infatti, in breve, scopre la ribellione di Robert, ed è alla fine della guerra che Paisel dimostra la sua lealtà nei confronti di Tywin, quando convince Eri ad aprire i cancelli di approdo del re per far entrare le forze Lannister, cosa che, come sappiamo, porta al saccheggio della città e alla definitiva sconfitta dei Targaryen. Una volta salito al trono, Robert concede a Paisel di mantenere la sua carica di gran maestro nel Concilio Ristretto, dove continua a promuovere gli interessi Lannister, fiancheggiando la regina. Così, quando Jon Arryn viene appelenato, il gran maestro non fa nulla per salvarlo, in modo che la verità sui figli di Cersei rimanga nascosta. Interrogato poi da Ned Stark, dichiara che secondo lui non c'è stato niente di sospetto nella morte del primo cavaliere, puntando infine il dito contro Varys per deviare le indagini. In seguito, la ferita riportata da Ned nello scontro con Jaime è Paisel a curarlo, e quando a corte si viene a sapere delle scorrerie degli uomini Lannister nelle terre dei fiumi al comando di Sir Gregor Clegane, il gran maestro cerca di ritardare i provvedimenti presi contro Tywin, ed è sempre lui a prendersi cura delle ferite riportate da Robert durante la battuta di caccia nel Bosco del Re. Dopo la morte del sovrano e l'esecuzione di Ned Stark, Paisel continua a servire fedelmente la regina, fino all'arrivo di Tyrion Lannister come nuovo primo cavaliere del Re, il quale smaschera la vera lealtà del gran maestro ed affrontandolo nelle sue stanze dove si trovava con una serva e gli fa tagliare la barba, e dopo che l'anziano maestro ha confessato i suoi numerosi tradimenti nei confronti del regno in favore di casa Lannister, Tyrion lo fa rinchiudere nelle celle nere. Paisel poi viene ripristinato al suo ruolo da Tywin per evitare che la cittadella eleggesse un nuovo gran maestro, leale ai Tyrell. Ormai però è un uomo distrutto, segnato dal periodo passato in prigione, e al matrimonio di Aragioffri non è in grado di fare nulla per evitare la morte del sovrano, perdendo così la fiducia di Cersei. Dopo aver testimoniato in favore dell'accusa nel processo di Tyrion, Paisel continua il suo servizio per il nuovo re Thommen, provando inutilmente a curare le ferite avvelenate di Gregor Clegane su ordine del primo cavaliere, il quale aveva intenzione di accontentare i dorniani giustiziando pubblicamente la montagna. Dopo la morte di Tywin il rapporto tra Paisel e Cersei peggiora, in quanto il gran maestro, oltre a passare molto tempo con Margaery, si oppone a diverse decisioni della regina reggente, come la nomina di Qyburn nel consiglio ristretto, la ricostituzione del credo militante e il rifiuto di pagare i debiti con la banca di ferro. Costretto poi da Cersei, Paisel ammette pubblicamente di aver dato a Margaery il tè della luna come contraccettivo, causando l'arresto della giovane reggina da parte dell'Alto Septon per adulterio e tradimento. Quando poi anche Cersei viene imprigionata, il gran maestro Paisel prende il controllo del consiglio ristretto, governando il regno fino all'arrivo di Sir Kevan Lannister, chiamato a corte per prendere il posto di reggente. Così Paisel continua a servire come gran maestro, ed insieme a Kevan iniziano a riparare i danni che Cersei aveva causato al regno. Ma l'anziano maestro è sospettoso nei confronti di Mace Tyrell, il quale, eletto primo cavaliere, incolpava Paisel per l'arresto della figlia Margaery. Alla fine le paure del gran maestro si rivelano fondate, anche se i Tyrell non c'entrano niente, perché ad ucciderlo è Varys, il quale, per agevolare la conquista del principe Aegon, assassina sia Paisel che Kevan, in modo che non possano riportare l'ordine ad approdo del re e nel regno. Così, dopo aver servito come gran maestro nel consiglio ristretto di ben sei re diversi, Paisel muore il primo giorno di quello che sarà uno degli inverni più lunghi e difficili che i sette regni abbiano mai visto, ma di questo potremo parlare in un futuro video. Per essere sicuri di non perderlo, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete. Valar Doeris